Ovviamente dopo il panettone il Pandoro è l'altro protagonista delle tavole di Natale. Oggi vediamo come realizzare un panettone in casa, soffice e profumatissimo. Scopriamolo insieme! Preparate il mix di arame mescolando il burro morbido, il miele di acacia, la pasta di arance, la scorza cartugiana di limone, la vaniglia. Mescolate bene con una frusta, coprite con la pellicola e dovete far riposare in frigo per circa un'ora. Preparate l'emulsione mescolando il burro morbido, lo zucchero semolato, il cioccolato bianco, mescolate con una spatola. Quando è amalgamato aggiungete i tuorli d'uovo, mescolate ancora con la spatola, coprite con la pellicola e fate riposare questa emulsione in frigo. Rinfrescate gli evitomatri per 3 volte. Nella ciotola della planetaria versate le uova intere, lo zucchero semolato, la farina, fate impastare per circa 10 minuti a velocità 1 quando si forma l'impasto. Aggiungete il lievito madre. A questo punto a velocità 1, ci vorranno circa 10 minuti, fate mescolare i due impasti. Unite il burro che dovrà essere morbido e dovete aggiungerlo in due volte facendola assorbire bene. Otterrete un impasto bello suodo, mettetelo sul piano, formate una palla e a questo punto mettetela nella ciotola e dovete coprire e far lievitare in un luogo tiepito per 6 ore. Dopo circa 3 ore e mezzo preparate la biga mescolando le uova intere, il miele, il latte. Aggiungete il lievito di birra fresco, la farina, formate un impasto molto grezzo con l'aiuto di una spatola. Quando l'impasto si è formato copritela con la pellicola e fate lievitare un'ora e mezza. Quando sono lievitati unite i due impasti nella ciotola, aggiungete la farina, i tuorli d'uovo e impastate a velocità 1 per circa 5 minuti e a velocità 2 per circa 5 minuti. Quando si è accordato l'impasto aggiungete lo zucchero a velo, fate impastare a velocità 1 per circa 5 minuti. Ora è il momento di aggiungere il mix di aromi, solamente la metà. Impastate 5 minuti a velocità 1, aggiungete l'altro zucchero a velo, impastate per 5 minuti a velocità 1, aggiungete il restante mix di aromi, è il momento di impastare bene per 10 minuti a velocità 1. Aggiungete il sale fino, ci vorrà un minuto per farlo assorbire. A questo punto è l'ora dell'emulsione che dovrete aggiungere in 3 volte, facendolo assorbire molto bene ogni parte e dovrete aggiungere la successiva. Quando tutto sarà ben incordato otterrete un impasto che sarà gelatinoso ma comunque comunque ben incordato. Trasferitelo su un piano imburrato, imburratevi anche le mani e dovete fare 4-5 giri di pieghe. In questo modo l'impasto, anche se è gelatinoso, comincerà a prendere struttura. Con l'aiuto di un tarocco, formate una palla e lasciatelo riposare 40 minuti a temperatura ambiente. Dopo questo riposo, fate altri giri di pieghe circa 3-4 e vedrete che l'impasto sarà più compatto, più suodo, lucido e non appiccicoso. Formate di nuovo una palla, rovesciatela sulla mano, pizzicate il fondo per far uscire tutta l'aria, mettetelo su uno stampo imburrato da pandoro, livellate bene, fate lievitare 10-12 ore in un luogo tiepido, finché non arrivi a 2 cm dal bordo. A questo punto cuocete il forno statico a 160 gradi per 45 minuti e altri 15 minuti con la porta del fondo leggermente aperta. Sfornate e fate raffreddare 2 ore nello stampo, poi rovesciatelo su una griglia. A questo punto dovrà riposare a temperatura ambiente per 10 ore. E dopo questo riposo, il vostro pandoro sarà perfetto e profumatissimo da spolverare con tanto zucchero a vero, da portare in tavola e fare davvero un figurone. Adesso non resta che mettere le mani in pasta. Trovate la ricetta completa anche sul mio blog.